La necessaria accelerazione con cui sono stati realizzati e certificati i vaccini impone evidentemente, ma questo non c'è bisogno di essere dei virologi, molta cautela e molta attenzione. Quindi credo io invece che sia giusto che ahimè vi sia discussione pubblica su quanto accade, che sia giusto che vengano immediatamente bloccati i lotti e vengano assolutamente verificati. Quindi dobbiamo dare la certezza agli italiani che si possono vaccinare in sicurezza. Qualsivogli altro messaggio che passa potrebbe essere catastrofico per la nostra ripresa in tutti i sensi. Quindi io sono d'accordo al fatto che invece non vi sia nessun occultamento di queste notizie, che vi sia un grande cautelo, una grande attenzione, il blocco dei lotti e la verifica immediata e puntuale, e anche forse altro che per scongiurare qualsivoglia ipotesi che queste morti possano essere collegate allo stesso tempo. E questo è quello che sta avvenendo. Grazie a Del Mastro.